No, è per quando fai il cerchio largo, non lo vedo bene, in caso di review. No, ma sulla staccionata va bene. No, ma sulla staccionata va bene. L'esperimento di proprietà di una macchina, il costo per l'esperimento di proprietà di una macchina. Aspetta, trasferimento di proprietà di assicurazione. L'esperimento di proprietà di una macchina è l'esperimento di proprietà che, avendo il costo, non ha fatto la macchina. Invece di una cosa, l'accesso di contrenza, di solito, viene fatto a titolo non oneroso. Però c'è quanto da una cosa, quindi a quel punto è stato corrispettivo. No, ma aspetta. No, perché io non faccio l'assicurazione, non faccio la macchina. Martina, ma che gli vedi il cane a Viole, a Michele? Vedi il cagnolino? Ma perché non va a vedere questa? Ma perché non va a vedere questa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Settanta!